Negli anni 80, l'età d'oro del rally, Lancia svela la 037, ultima trazione posteriore del gruppo B, prima dell'era della trazione integrale. Questa vettura è probabilmente la più performante mai costruita. Ora immaginate se un uomo decidesse di far rivivere oggi questa Lancia 037. L'età d'oro del rally, Lancia svela la 037, ultima trazione integrale.